Ciao a tutti da Paolo di Meteo4. Andiamo ad installare un nuovo ale pad, oppure anche detto grillimetro, che serve a misurare la grandezza e l'intensità di una grandinata. Andiamo a sostituire quello vecchio. Come potete vedere questa mattina, ora di pranzo, c'è stata una piccola grandinata, infatti ci sono dei segni sulle ale pad, questi qua di piccole dimensioni. Volendo si può mettere un righello, così si può avere la grandezza in tempo reale. E' bello vedere anche la frequenza della grandine nella superficie del grillimetro. Adesso questo grillimetro è un po' da punto qui, quindi vado a sostituirlo. Il grillimetro, se questo è in modo molto semplice, bisogna avere un pezzo di polistirolo, tagliare un pezzo di polistirolo al quadrato. E poi la cosa importante è mettere una superficie di alluminio, della capia di alluminio che si usa anche in casa, però con lo spessore più grande che riuscite a trovare. Io ho dovuto portare addirittura in viarmelo dall'America, perché in Italia non sono riuscito a trovarlo. Per la giusta grammatura. Andiamo a installarlo. Vediamo se riusciamo ad adattarlo. Qui c'è un altro premio. E' che buono. Questo pennello. E questo è pronto per la prossima grandinata, sperando che non succeda. Ciao tutti.